Vista la richiesta di numerosi documenti elaborati tecnici, la consegna telematica avrebbe potuto comportare molti più rischi e relativi ricorsi. È la replica degli uffici del Dipartimento regionale alle attività produttive rispetto alle contestazioni di terzi sulle modalità prescelte relative alla presentazione delle domande. L'ordinanza del TAR, si legge in una nota del Dipartimento, non ha messo assolutamente in discussione la trasparenza della procedura adottata. La nostra scelta, infatti, sostengono i responsabili, è stata quella di agevolare anche coloro che non avessero la possibilità di disporre della navigazione nella rete internet.